A Valbondione continua la rassegna I Sentieri della Musica. Questa volta l'appuntamento è all'ostello del Courot, più precisamente al Nido di Pietra, l'opera di Marta Petteni, vincitrice lo scorso anno del concorso Sentieri Creativi. Ad esibirsi sarà il giovane percussionista Gabriele Lattuada, che è qui con noi. Che cosa proporrai domenica in questo contesto del tutto particolare? Ma proporrò un concerto acustico per percussione sola. Ciò vuol dire che userò soltanto strumenti a percussione di diverso tipo, quindi strumenti come le tastiere a suono determinato, come la marimba e il vibrafono, strumenti a suono indeterminato, come dei tamburi e piccoli oggetti di uso quotidiano per cercare di formare un concerto, un repertorio che interagisca con la natura circostante e con la musica in generale. Come scegli il tuo repertorio per un concerto? Perché magari determinate scelte invece di altre? Ma allora è sempre una domanda molto complessa e articolata, perché il repertorio varia in base al luogo in cui si suona, proprio strettamente in base al palcoscenico, perché c'è sempre un problema diciamo oggettivo inerente allo spazio disponibile per suonare e poi soprattutto alla manifestazione in cui si suona e il luogo in sé, cioè cosa c'è intorno al posto in cui si suona, perché suono lì e perché non in un'altra parte. In questo caso c'è una bellissima scultura di un'artista italiana che invita a determinate cose, ci sono delle iscrizioni incise nella pietra e l'artista consiglia per vivere al meglio questa scultura e questa esperienza, che sarà anche musicale nel caso di questo concerto, a viverla al meglio. Quindi ho deciso in questo caso di usare un repertorio che sia molto vario, che abbracci più stili musicali possibili e che sia molto diverso dal punto di vista dinamico, quindi molto intimo e molto delicato, molto ritmico, molto armonico, sarà un repertorio molto vario. Come ti sembra questa scelta di far dialogare la musica con la natura? Nel caso delle percussioni è una scelta che si abbraccia molto bene, perché la percussione nasce primordialmente come suono, come strumento naturale. Se pensiamo al primo uomo delle caverne non aveva a disposizione un violino per comunicare, per suonare, quindi semplicemente prendeva la sua clava, la picchiava contro un sasso ed era già un elemento naturale, quindi è insito nella natura umana. Hai qualche progetto musicale a cui stai lavorando? Allora sì, ultimamente sto cercando di dedicarmi molto al solo, allo sviluppo della percussione in solo e mi sto dedicando alla realizzazione di un CD di brani miei in solo, cosa che è molto importante perché è come trasferire, per un musicista è come trasferire una parte di se stessi in un pezzo di plastica che continua a girare, una cosa un po' strana però molto molto bella, e vari progetti veramente molto diversi. Uno dei più importanti e grossi è quello che ho presentato qualche mese fa a Gallarati, che si chiama Attraverso il buio, un dialogo della musica grazie al buio, quindi l'azzeramento del suono, quindi riuscire attraverso il silenzio e il buio a vedere e ad ascoltare.